Nuovi ospedali, approvato il DDL per gli anticipi, valorizzare i geociti piemontesi, via libera all'unanimità. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, l'Aula ha dato il via libera maggioranza al DDL che permette di aprire mutui per 42 milioni di euro per la costruzione di nuovi ospedali. Il Consiglio regionale ha maggioranza approvato il disegno di legge 281, autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria, anno 2023, presentato dalla Giunta regionale presente in Aula, l'assessore Luigi Icardi. Si tratta di un passaggio per la realizzazione di nuovi ospedali in Piemonte. L'opposizione non ha partecipato al voto, tranne Sergio Chiamparino per il Partito Democratico e il gruppo Movimento 5 Stelle, che si sono astenuti, per cui non ci sono stati voti contrari. Noi abbiamo un patrimonio di edilizia sanitaria molto, molto vecchio. Cerchiamo di coordinare e aggregare questi fondi per rinnovare il nostro patrimonio di edilizia, per dare una risposta anche più adeguata e migliore ai piemontesi. Nella relazione iniziale, Carlo Riva Vercellotti, fratelli d'Italia, ha ricordato che il provvedimento autorizza la Giunta alla contrazione di un mutuo per un importo non superiore a 42 milioni di euro e per una durata massima di 10 anni e a uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il relatore di opposizione Sean Sacco, Movimento 5 Stelle, ha affermato che siamo ben lontani dal posare la prima pietra per un nuovo ospedale in Piemonte. Mancano le indicazioni di priorità. Nel corso del dibattito generale sono intervenuti numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione. Questa amministrazione regionale, la Giunta, sta lavorando per dotare di nuovi ospedali di una migliore medicina territoriale. Quello che stiamo facendo è veramente il massimo perché il tema della sanità è assolutamente importantissimo. Questo disegno di legge autorizza un'ulteriore spesa, devo dire un ulteriore indebitamento per il Piemonte. Speriamo che oltre a un nuovo debito ci sia anche un nuovo ospedale. se non il Piemonte si carica solo di un nuovo debito e null'altro. Un minuto di silenzio nell'aula del Consiglio regionale in memoria del Presidente Merito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, scomparso venerdì scorso all'età di 98 anni. Ha servito fedelmente l'Italia per molti anni, ha ricordato il Presidente del Consiglio Stefano all'Asia, ricoprendo le più alte cariche di governo e dello Stato. Un uomo delle istituzioni che ha manifestato grandi doti di intelligenza e passione per la vita politica italiana, così come ha dimostrato responsabilità nell'assumere scelte importanti, spinto dalla ricerca di un bene collettivo. Via Libera all'unanimità al provvedimento mirato a valorizzare i geositti piemontesi. Attualmente in regione c'è un unico geoparco, quello di Sesia Valgrande. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità con 42 sì la legge per la tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico piemontese, un'eccellenza per la varietà e unicità del nostro territorio, come affermato dal relatore di maggioranza Carlo Riva Vercellotti, fratelli d'Italia. Per attuare la legge sono stati stanziati 538 mila euro complessivi per il triennio 2023-2025. La nuova norma prevede la creazione di un catasto con gli elenchi dei geositi e un archivio fruibile e consultabile in rete. Si sostiene la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai soggetti proprietari o gestori dei siti da recuperare. La legge vuole creare memoria storica di ciò che abbiamo, conservare questa memoria, ma al tempo stesso guardare alla valorizzazione di questa geodiversità per promuovere il nostro patrimonio. Relatore di opposizione Shonsacco, Movimento 5 Stelle, che ha sottolineato l'importanza della legge per sostenere con il supporto della regione tutti i soggetti che hanno in programma la valorizzazione dei geositi a partire dalle amministrazioni locali. Questo è un provvedimento di cui la regione ha bisogno. La nostra regione ha degli importantissimi geositi che devono essere valorizzati, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista turistico. L'assessore Matteo Marnati ha collegato la valorizzazione geologica del Piemonte alla qualità dei vini, che deriva dalla particolare conformazione del super vulcano che conferisce una particolare qualità ai vini dell'Alto Piemonte. Un volano che, se sfruttato a dovere, potrà avere positive ripercussioni sul comparto vitivinicolo della zona. Un'animità da parte dell'Assemblea anche al testo unificato riguardante le comunicazioni sui figli a entrambi i genitori separati. Le comunicazioni di competenza regionale, ma anche di associazioni sportive, ricreative e culturali che riguardano i figli minori di genitori separati, saranno indirizzate ad entrambi su richiesta di almeno uno dei due genitori e nel rispetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il testo unificato delle due proposte di legge a prima firma Sara Zambaia Lega e Silvio Magliano Moderati, che prevede, oltre alla comunicazione congiunta, la stipula di protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche e gli enti in relazione alle comunicazioni di loro competenza. Questa legge è stata anche la grande possibilità legislativa per promuovere ancora una volta per i comuni l'istituzione del registro della bigenitorialità. Quindi è una legge che va innanzitutto nell'ottica di tutelare il minore e di dargli il diritto di poter crescere serenamente con entrambi i genitori, indipendentemente dalle scelte che hanno fatto nelle loro vite. L'idea è che le mamme e i papà, nel caso in cui si interrompa il matrimonio, possano essere informati in egual modo e che quindi ci sia una comunicazione congiunta. Questo per noi è importante proprio perché devono continuare a rimanere genitori. Recepito l'emendamento presentato da Diego Sarno, Partito Democratico, che stende le norme sulla comunicazione congiunta ai figli nati all'interno delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto. L'Assemblea ha respinto a maggioranza le due proposte di legge, una ad iniziativa popolare e una ad iniziativa degli enti locali, per il contrasto del gioco d'azzardo patologico. Il relatore di maggioranza della prima proposta, Claudio Leone Lega, ha illustrato i punti salienti del testo ricordato la contrarietà del Cal, mentre il relatore della seconda, Andrea Cane, sempre della Lega, ha contestato le statistiche che darebbero in aumento il gioco. I relatori di opposizione, Giorgio Bertone, Europa Verde e Diego Sarno, Partito Democratico, hanno ricordato che la precedente legge del 2016 era una legge approvata all'unanimità che la maggioranza ha voluto cambiare e che ora i volumi di gioco sono notevolmente aumentati. Sarà inviato alla Camera dei Deputati il testo approvato dall'Aula che mira a tutelare le carrozzerie artigiane che in Piemonte sono 2.600 e danno lavoro a circa 8.000 addetti. La situazione non è più sostenibile. Il sistema assicurativo, facendo cartello nel mercato delle polizze auto, ha spinto il comparto dell'autocarrozzeria, oltre 20.000 imprese in Italia, in una posizione subalterna di dipendenza economica. Lo ha detto in Consiglio regionale Sara Zambaia, Lega, nell'illustrare la sua proposta di legge al Parlamento per modificare il codice delle assicurazioni private. La PDL si pone due obiettivi, il divieto per le assicurazioni di inserire limitazioni nella scelta e l'obbligo per le stesse assicurazioni di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato se in convenzione viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata e la tecnica di esecuzione della riparazione stessa. A svolgere la relazione di opposizione è stata Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, che pur condividendo i contenuti ha sottolineato che la Regione non ha una competenza diretta per modificare la normativa nazionale e ha auspicato un intervento da parte del Governo. Nel dibattito sono intervenuti Michele Mosca e Alberto Preioni, Lega, che hanno rimarcato il ruolo degli artigiani rispetto alle multinazionali assicurative. Il documento è stato approvato e verrà inviato alla Camera dei Deputati. È stata inaugurata al Museo Carcere Le Nuove di Torino la mostra articolo 27. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Così recita l'articolo 27 della Costituzione italiana, a cui rimanda e da cui trae origine la mostra inaugurata nella sede permanente del Museo Carcere Le Nuove di Torino, in via Paolo Borsellino, con il sostegno di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e difensore civico. Presenti all'inaugurazione due classi di studenti degli istituti Plana e Volta di Torino. Occorre comunicare all'opinione pubblica e in particolare ai giovani qual è il senso della pena. L'esecuzione penale in carcere deve essere utile al recupero e al reinserimento, alla rieducazione. Il progetto è realizzato da Essere Umani con gli studenti universitari del Corso di Arte e del Fumetto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. È stato naturale prendere l'articolo 27 e lavorarci sopra, cosa che abbiamo sempre fatto all'interno delle scuole. Dobbiamo costruire con loro la società e quindi confrontarci formandoci e informandoci. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie!